Buona giornata amici, ben trovati alla rassegna stampa di Fano TV. Oggi è venerdì 15 dicembre 2023 e vediamo subito chi è il santo del giorno per poi passare alle previsioni del tempo e quindi all'apertura dei giornali. Ecco la grafica, ecco questa bella signora, è Santa Virginia Centurione Bracelli, visse nel XVII secolo, è una santa italiana, rimasta vedova giovane con due figli e il matrimonio le era stato imposto. Dopo che il marito, dopo cinque anni di matrimonio morì, fece voto di castità e fondò una scuola per le ragazze abbandonate. E poi fondò un altro ordine, un ordine del suore di nostra signora del rifugio del monte Calvario per preparare le insegnanti. E quindi si dedicò all'insegnamento, al riscatto delle giovani che non avevano un futuro e quindi non potevano poi né avere marito né poter avere una famiglia. Era un'opera importante che riuscì a riscattare parecchie parecchie giovani. Questa è Santa Virginia Centurione Bracelli, una santa non molto conosciuta ma non meno importante. Ed ora vediamo le previsioni del tempo. Ma vediamo che sulle Marche persiste un po' di variabilità con qualche piovasco, specie nei settori interni e sull'Anconetano. La provincia di Peso Lubino dovrebbe essere salvata. Venti sono più freddi di Grecale dalla parte di nord e nord-est sulle coste e da sud per quanto riguarda l'entroterra. Le temperature 7 la minima, 11 la massima, è diminuita rispetto ai giorni scorsi. E poi vediamo che il sole nascerà alle 7.33 e tramonterà alle 16.29. Ciò detto passiamo alle notizie del giorno e vediamo subito l'apertura del resto del Carlino. Eccola qua. E vediamo un candidato sindaco, un nuovo candidato sindaco. orbita all'interno del centro-sinistra. Ed eccolo qui nella fotografia, lo riconoscete tutti. Etienne Lucarelli che scende in campo e mostra la sua disponibilità a competere per la candidatura sindaco di Fano nelle prossime elezioni del giugno del 2024. Lucarelli corre da sindaco, il motto ascoltare e poi fare. L'assessore al turismo e all'attività economica è candidato dell'area civica. Nei prossimi giorni apriremo un dialogo con tutti cercando di trovare convergenze. Sul resto del Carlino c'è un'intervista che fa al candidato Anna Marchetti. Chiede a lui quali sono le sue intenzioni, qual è l'area di intervento, quella d'ambito, quali sono le prospettive. Insomma ci sono diverse notizie che Lucarelli dà in merito alla sua candidatura. Come candidato sindaco dell'area civica aprirà al campo largo, chiede la Marchetti al sindaco. Nei prossimi giorni apriremo un dialogo con tutti, ha detto Lucarelli, cercando di trovare convergenze sui temi prima delle primarie che sono comunque uno strumento democratico di scelta del candidato. Ebbene Lucarelli per quanto riguarda le primarie insistentemente richieste dall'altro candidato sindaco Samuele Nascarin non oppone nessuna pregiudiziale ma dice io sono aperto a tutte le soluzioni. Se il centro-sinistra vuole le primarie io competerò sulle primarie. Se invece si sceglie un candidato con un accordo tra le forze politiche io sono ugualmente disponibile. Quindi nessuna preclusione per quanto riguarda le primarie. E poi invece per quanto riguarda il regresso, quello che è stato fatto e quello che si farà in futuro, Lucarelli dice che la discontinuità va ponderata. La giunta a Seri ha fatto qualcosa di buono, anzi ha fatto molto di buono. E vediamo anche come l'argomento viene trattato dal Corriere Adriatico. Lucarelli è in corsa per fare il sindaco, primarie ci sono ma non è un problema. L'assessore si candida sostenuto da Seri e anche dalla Brunori, sostenuto dalle liste civiche. Lunedì ci sarà poi la riunione del centro-sinistra per decidere come procedere. Lunedì si dovrebbe attuare la convergenza su un programma di tutte le forze del centro-sinistra che vediamo anche se i progressisti poi aderiranno al centro-sinistra insieme alla compagine che attualmente governa il comune di Fano. E dicevo, per quanto riguarda la discontinuità, la giunta a Seri ha dichiarato Lucarelli, ha fatto molte cose buone. Ha abbellito la città, ha avviato una strategia che ridesse impulso al settore economico, ha fornito sostegno alle famiglie fragili, ha qualificato i servizi scolastici, insieme abbiamo dato impulso al turismo con una strategia che ci ha proiettato alla ribalta internazionale, ora ci attendono però nuove sfide. Ebbene, queste nuove sfide ovviamente devono avere un qualcosa in più rispetto a quello che è stato fatto e quindi in questo caso ci sarà di che provvedere e quindi di che progettare nuovi interventi. Ebbene, la battaglia, la campagna politica si anima quindi rispetto alle prossime politiche, le prossime amministrative, anzi. E ora attendiamo invece quello che accadrà all'interno del centro-destra, dove ancora, a parte Giuseppe De Leo che si è autocandidato, insomma, ancora non c'è un candidato che riunisca un po' la coalizione, almeno quella che è rappresentata in Consiglio Comunale. Vediamo le altre notizie, torniamo sul resto del Carlino. Parliamo di un problema che esiste in città, esiste da tanto tempo, un problema che viene evidenziato da Fratelli d'Italia, in modo particolare dal capogruppo consigliare Giuseppe Pierpaoli e dalla consigliera Lucia Tarsi, e quello dei gabinetti pubblici. Una carenza che avvertono molti cittadini, ma anche molti turisti, che vengono in visita alla città di Fano e non hanno un servizio pubblico in centro storico. E quindi devono rivolgersi obbligatoriamente nei bar, nei ristoranti, magari prendendo un caffè e cercando la comprensione del gestore per un servizio igienico. Città accogliente e turistica, in centro niente bagni pubblici. Ci sono i bagni pubblici, ma sono tutti chiusi. Ci sono al Pincio, ci sono in piazza Marconi, ci sono in altre località, però non funzionano. E quindi questo è veramente un servizio che una città turistica, come Fano ambisce d'essere ed è veramente, occorre dunque ripristinare. E quindi questo è uno stimolo rivolto verso l'amministrazione comunale da parte di Fratelli d'Italia. E qui abbiamo invece una decisione della Regione Mar, che ci fa un po' riflettere. Niente soldi per i carnevali storici e quindi anche per il carnevale di Fano. L'anno scorso ha dato 40 mila euro. Se venisse a mancare una cifra così consistente al budget del carnevale, ebbene si porrebbe in difficoltà questa manifestazione. Lo evidenzia la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Marta Ruggeri, preoccupata per il carnevale di Fano, che rischia di rimanere a secco. Ebbene, rimarranno a secco anche gli altri carnevali, perché insomma, la Marta Ruggeri aveva proposto una somma di 100 mila euro, poi da distribuire un po' a queste manifestazioni, che sono importanti non tanto per fare divertire la gente, ma anche per attrarre dei turisti e quindi alimentare un indotto economico che per un periodo di bassa stagione, come quello invernale, è abbastanza, è molto importante, anzi non abbastanza. Sant'Arcangelo, ecco i fondi, un articolo di spalla del resto delle Carlino. Arrivano 408 mila euro di fondi pubblici dal GSE, ovvero l'ente che gestisce le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica in tutta la nazione, dedicati all'efficientamento energetico dell'ex Sant'Arcangelo, in vista dell'apertura della fabbrica del carnevale. Sappiamo che questo progetto, che purtroppo è rimasto a lungo in stallo per una causa che le ditte che hanno partecipato all'appalto hanno intentato tra di loro, ora finalmente la cosa è stata risolta, i lavori sono ripresi, ebbene altri 408 mila euro in merito a questo progetto importante che alimenterà ancora il centro storico di Fano per quanto riguarda l'aspetto culturale, sono le istituzioni culturali, pensate che attorno a Piazza Miani oltre al progetto della fabbrica del carnevale abbiamo Palazzo Bracci Pagani, abbiamo la Memo, abbiamo la Pinacoteca San Domenico, quindi veramente è un insieme di istituzioni che rende ancora pulsante vivo il cuore della città e quindi questo è una carica di ossigeno in più a questo cuore che batte. E invece qua in via Dante Alighieri il cuore comincia un po' a fare cilicca perché dopo tanto tempo il provvedimento che è stato attuato dall'amministrazione comunale di eliminare i parcheggi per realizzare una pista ciclabile sul lato monte di Viale Dante Alighieri insomma non è piaciuto e secondo i residenti desta ancora dei problemi. Li evidenzia questi ultimi Antonio Secli l'avvocato Antonio Secli che torna a levare la sua protesta per la pericolosità del traffico nel controviale di Sassonia il controviale di Viale Adriatico. Non è bastato, ha detto, scrivere prima dell'estate al prefetto chiedendo di intercedere presso il comune di Fano per modificare la viabilità della zona e infatti nulla è stato fatto e rischi permangono. Molto traffico, mancanza di parcheggi insomma in questa zona rimane il malcontento. Giriamo la pagina vediamo ancora che cosa ci propina il resto del Carlino questa mattina e siamo a Terre Roveresche dove vediamo che c'è una bella manifestazione. Infatti sono attesi centinaia di Santa Claus ovvero di Babbi Natale domenica a Terre Roveresche per una bella passeggiata di corsa da Barchi fino a Piagge attraversando i centri storici di Orciano e San Giorgio. Ebbene, guardate quanti Babbi Natale correranno questi sono quelli delle passate edizioni ma ovviamente si rinnoveranno anche in questa domenica prossima l'iniziativa è Babbi Natale in Allegria giunta alla sedicesima edizione. Ebbene, chi vuole può acquistare il costume che non ce l'ha, costa 7 euro quindi è una cifra molto molto abbordabile e poi tanta allegria tanta voglia di camminare, di correre speriamo che sia una bella giornata in modo che questo colore rosso palpitante, denso di emozioni dia il calore e la carica al Natale. Ebbene, il ritrovo per tutti è nella piazza del municipio di Barchi le iscrizioni dalle 8.30 alle 9.45 e poi alle 10 si parte da Portanova dove verrà appunto decretato il via. A Mondavio si è approvato il progetto il progetto, anzi il bilancio preventivo per il 2024 non c'è nessun aumento di tasse e di tariffe gli investimenti vertono in modo particolare sulle strade e sulla politica green ecco qua l'articolo di cui si parla il sindaco Zenobi puntiamo molto sull'efficientamento energetico che è un aspetto che coinvolge un po' tutte le amministrazioni comunali così come dovrebbe coinvolgere il privato. Ad Urbino si sono festeggiati 25 anni nel patrimonio dell'UNESCO una posizione importante perché rileva e pone l'attenzione la città ducale su tutta Europa su tutto il mondo oserei dire due incontri di incontri e dibattiti sui risultati che sono stati ottenuti da quel lontano dicembre del 98 la città dunque ha festeggiato i 25 anni del riconoscimento del proprio centro storico come patrimonio dell'UNESCO ci sono due giorni di confronti e dibattiti in teatro il teatro Sanzio riaperto dopo la ristrutturazione proprio in occasione di questo avvenimento ebbene all'ombra dei Torricini è stata posta una targa una targa con la dichiarazione appunto che rende Urbino patrimonio della umanità il 5 dicembre dal 5 dicembre del 1998 e questa è la data fatidica che ha così elevato la città di Urbino a questo riconoscimento e poi invece a Urbino non manca il dibattito politico perché insomma anche a Urbino si cerca di individuare il successore di Gambini anche se Gambini ritenta per la terza volta la gestione del Comune l'opposizione lancia la sfida a Gambini il centro-sinistra chiama raccolta Verdi Italia Viva Movimento 5 Stelle Europa Più e altri per un raggruppamento che vinca le elezioni del 2024 al tavolo dunque ci sono ex articolo 1 sinistra per Urbino Europa Più Verdi Europa Più Verdi Italia Viva Movimento 5 Stelle Partito Democratico e poi Azione Azione ha fatto parte per un po' del tavolo e ci farà sapere se sarà del gruppo o meno questa è un po' la compagine che si sta formando per costituire insomma il gruppo che dovrà poi porsi in antagonia con l'attuale amministrazione Proloco di Sasso Corvaro illuminato il nuovo presidente si tratta di Giuseppe Ciandrini prende il posto di Roberto Brugnettini che ha preferito fare un passo indietro dopo tutte le vicende purtroppo giudiziarie che sono confluite davanti al giudice per la vendita di Opuscoletti insomma la cifra è minima 2.000 euro però hanno determinato un grande chiasso e quindi le polemiche che hanno un po' guastato l'armonia all'interno della Proloco vediamo ancora due articoli a fondo pagina appuntamento col cibo di Terra Nostra due giorni di iniziative per degustare le bontà del territorio a Fossombrone e invece paura a Belforte per una fuga di gas è una strada chiusa dovevano passare i cavi per la fibra ottica ma hanno tranciato un'importante arteria della distribuzione del gas e quindi c'è stato un momento di panico un momento di pericolo vediamo anche le pagine pesaresi dove l'apertura è dedicata al problema dei soldi per Pesaro capitale nazionale della cultura Pesaro 2024 lo scontro Biancani slittano i 500 mila euro regionali li avrete a Capodanno insomma la regione questa volta fa un po' fatica a dare i suoi soldi alla nostra provincia i Cannevali a secco Pesaro città della cultura slittano a Capodanno slittano di poco insomma però ci sono questi problemi che animano un po' anche il dibattito politico e le consigliere del Partito Democratico Biancani evidenzia nuovi ritardi mentre l'assessore Baldelli dice non vi preoccupate i soldi ci saranno a gennaio quindi pochi giorni solo di ritardo invece vediamo questo articolo che ci fa un pochino respirare per il buon andamento del futuro restituisce portafogli con mille euro a malapena è stato ringraziato un'avvocatessa racconta il gesto del padre non voleva ricompense ma un segnale di riconoscenza almeno vabbè insomma se il proprietario del portafoglio ha così un monito di ringraziamento ben venga altrimenti sono affari suoi insomma poi la gente giudica per conto suo comunque questo è un fatto che dimostra come ancora l'onestà sia presente appunto nei cittadini e poi gli atteggiamenti conseguenti sono un'altra cosa il parto sulla rotatoria Massimo aveva fretta è nata in ambulanza sembrava un film mamma Marica racconta quei minuti rocamboleschi è stato veramente incredibile un parto improvviso un parto non inaspettato ma arrivato prima del tempo pochi minuti prima del tempo poteva anche causare dei problemi ma per fortuna è andato tutto bene e ora vediamo papà mamma e la bambina con anzi il bambino tutto vestito d'azzurro si chiama Massimo in braccio alla mamma prima c'è stato qualche dolorino ha avvertito la mamma poi alle 19 le doglie sono state ancora più frequenti e quindi si è fuggiti verso l'ospedale con l'ambulanza ma sulla rotatoria all'altezza di Villa Fastigi Massimo non ha più aspettato ed è uscito dalla mamma un parto che per fortuna è andato bene si è risolto bene la maxiasta del comune scuole terreni uffici in ballo 5 milioni sono 10 gli immobili che vengono messi sul mercato tra i quali c'è anche l'ex carcere minorile gli impianti sportivi di Villa Marina la scuola primaria Mascarucci di Soria e qui vediamo i tre punti vediamo l'ex carcere minorile di via Bertozzini la scuola Mascarucci a Soria e la palestra eccola qua la palestra di Villa Marina il comune vende tutto e quindi cerca di avere dei denari liquidi ancora Marcelli sulla cronaca Federico Marcelli il 49enne di Pesaro che è fuggito dagli arresti domiciliari rompendo il braccialetto che è stato poi rintracciato in Umbria rimane in cella ora per la latitanza il magistrato Umbro ha proceduto nei suoi confronti solo per il possesso di droga trovata in casa c'è una carica ora aggiuntiva e bisognerà vedere se questa droga appartiene veramente al Marcelli oppure era preesistente al suo ingresso in questa casa rifugio ed ora diamo un'occhiata invece al Corriere Adriatico ovviamente abbiamo già parlato della candidatura di Etienne Lucarelli alle prossime elezioni amministrative Lucarelli è in corsa per fare il sindaco quindi abbiamo due candidati nel centro-sinistra due candidati che si proporranno alla riunione di lunedì prossimo quando il centro-sinistra allargato discuterà sui programmi innanzitutto e poi anche sulle candidature ricomincia da 22 il nuovo bosco di Monte Schiantello questa è un'iniziativa che viene attuata da Lupus in Fabula sono tanti gli alberi che dovrebbero essere piantati 900 intanto ne sono stati piantati 22 un progetto che insomma cerca di rinfoltire le alberature nel nostro territorio da parte di Lupus in Fabula centro-civico di Gimarra lo sprint al secondo piano dopo che a Gimarra è stato inaugurato il centro-civico limitatamente al primo piano della nuova palazzina realizzata a fianco la nuova chiesa di Gimarra ora l'amministrazione comunale che ne è proprietaria ha deciso di iniziare i lavori per quanto riguarda il ripristino del secondo piano un secondo piano di 500 metri quadrati che dovrà ospitare una sala polivalente due uffici dedicati al co-working un'aula studio una sala polifunzionale una reception e una terrazza coperta da 170 metri quadri e poi ci sarà anche una porzione con vista verso Fano e un'altra proiettata verso Pesaro è prevista anche la sistemazione delle scale di accesso il potenziamento dell'impianto fotovoltaico e il nuovo impianto dell'ascensore quindi nuovi lavori per una cifra di 600 mila euro che renderanno ancora più efficiente più disponibile più aperto il centro-civico di Gimarra secondo una politica poi che l'amministrazione comunale ha inserito nel piano regolatore un piano regolatore che prevede che ogni quartiere abbia una piazza un centro civico un parco un impianto sportivo e ovviamente una adeguata dotazione di parcheggi questo però a livello di previsione intanto a Gimarra però questa cosa viene realizzata la CNA ha incontrato il vescovo Andrea Andreozzi sono stati trattati in un clima ovviamente natalizio molti problemi molti aspetti il problema della formazione nelle scuole alcuni argomenti per quanto riguarda altri problemi i problemi dell'artigianato del piccolo commercio il problema dei giovani quello del lavoro insomma problemi che riguardano il prossimo futuro e con la speranza che questi problemi si risolvano noi chiudiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento per le notizie del giorno alle 20.30 di questa sera con occhio alla notizia di Fano TV e per domani alle 7 per una nuova rassegna stampa grazie per l'ascolto a risentirci a risultare a risultare a risultare